ben ritrovati a tutte e tutti a questo nuovo video nel quale voglio presentare un'interessante utilità in ambito audio che ci permette appunto come dice il titolo del video di registrare l'audio da qualsiasi sorgente con registratore audio che si chiama così tradotto in italiano il software che vi vado a presentare si chiama registratore audio in inglese il nome originale audio recorder ecco cosa fa questo programma appunto come già specifica il titolo permette di registrare l'audio dalla scheda audio praticamente o da un microfono di conseguenza dal browser dalla webcam da qualsiasi fonte audio che in poche parole esce dalle casse può uscire dalle casse del pc quindi qualsiasi audio noi possiamo sentire sul nostro pc quindi che esce dalle casse quindi appunto che può provenire da un video o da un audio dal browser dalla webcam dal nostro microfono dal nostro player multimediale da insomma da qualsiasi parte basta che quell'audio lì riesca uscire dalle casse del pc questo software che vi presento in questo video cattura riesce a catturare quel quel flusso audio e a registrarlo creare un file per voi ecco apriamo questo 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 programma quindi per vederne l'interfaccia allora io me lo sono fissato qui nel mio launcher vedete che un interfa un'icona che rappresenta un microfono quindi da l'idea di registrare appunto il registratore e si chiama appunto registratore audio faccio clic apriamo eccolo qua e vedete che l'interfaccia è abbastanza semplice direi tutto sommato eh come è composta andiamo un po dall'alto in basso quindi qui c'è il pulsantone per far partire il tutto per registrare qui è riportato il nome del file che lui da automaticamente possiamo anche modificare come crea il nome del file però tutto sommato vediamo un po gli da un numero e l'ora di registrazione può anche andar bene per difetto con rec davanti recording che va anche bene c'è un numero scusate la data è scuso la data l'ultima volta che l'ho usato un paio di giorni fa vedete il 22 marzo è rimasto il file impostato con il nome di due giorni fa l'ultima volta che l'ho usato poi qui si parla di timer che lo vediamo fra un attimo è una parte diciamo più potente scusate di questo programma è proprio quella parte qui centrale dove si può influire sul comportamento del del programma vedremo come qui origine gli si specifica da dove prendere il suono l'origine del suono io ho impostato appunto l'output quindi la stessa origine audio delle casse del pc quando sentite il suono dalle casse del vostro pc quindi lui intercetterà il flusso che va verso le casse del pc oppure vedete che se apro la tendina nel mio caso in questo momento avendo una webcam con microfono integrato lui mi dice posso catturarti il suono che tu registri nel tuo microfono integrato integrato nello schermo del tuo pc oppure il go mic che è quello che sto usando adesso della samson per registrare la mia voce in questi video è connesso un microfono usb quindi me lo fa vedere dice vuoi che intercetti e che registri quanto stai dicendo lui lo può fare periferica impostata di default dovrebbe corrispondere credo a quella di registrazione corrente nel mio caso go mic quindi dovrebbe essere la stessa cosa mi elenca anche ringman box che è il lettore audio il gestore dei file audio che è installato per difetto in ubuntu e poi c'è anche un'altra opzione che per il momento lasciamo perdere diciamo quelle più evidenti che ci interessano sono queste ecco scegliessi ringman box mi viene aperto faccio suonare le canzoni da ringman box e questo programma può registrare direttamente da lì nel nostro caso stiamo sul semplice potete poi indagare per conto vostro e sulle potenzialità di questo programma che trovo siano notevoli è un programma carino semplice ma anche potente allo stesso lo stesso momento stiamo sul semplice ripeto e imposto come origine per registrare l'output delle casse del pc insomma l'uscita della scheda audio il formato cioè come lui in che formato deve registrare quanto catturerà vedete che ce ne sono diverse opzioni il classico mp3 ogg che è il formato aperto eccetera eccetera lasciamo per il momento mp3 poi ci sono dei parametri modelli addizionali che sono delle impostazioni ulteriori tipo vuoi che quando voi spegnete poi accendete il pc questo programma parta da solo sarebbe questo se faccio così partirebbe da solo se faccio così no a me non interessa perché non è che uso tutti i giorni il registratore audio quindi spengo questa opzione rispettivamente invece mi interessa di più perché trovo pratica che mi mostri l'icona di se stesso nel pannello di notifica sopra quindi eccola qua la vedete qua in questo momento è rosso perché non è attivo il registratore quindi il microfono rosso se clicco qui vedete che c'è nascondi la finestra dell'interfaccia dell'applicativo avvia la registrazione mostra le registrazioni salvate e le informazioni sul programma che le vedete qua per quanto riguarda ubuntu 1204 la versione disponibile a 0.9 1 per versioni successe di ubuntu siamo già la 1 e qualcosa e quindi questa è una versione diciamo vecchia rispetto a quella che potreste avere voi se avete una versione di ubuntu più avanzata della mia impostazione ecco qui è il formato scusate prima c'è la cartella dove lui archivierà quindi registrerà i file che crea scaricati questo è il formato del nome del file per difetto che si può anche modificare ecco se si premiamo qua questo icona con la i di informazioni verrà aperto immagino una pagina di aiuto probabilmente nel browser eccola qua formatting the file name qui spiega come potete ritoccare questo formato per difetto con tutti i campi disponibili variabili disponibili che possono che verranno poi rimpiazzate da un'informazione nel nome del file se volete potete farlo io lascio appunto data ora minuti secondi che va bene impostazione dispositivo qua non tocchiamo nulla è funziona bene senza toccare qui ripeto potete sempre indagare voi se vi viene in aiuto o meno questa scheda di impostazioni noi stiamo sul semplice va bene così facciamo ok e siamo a posto poi dicevamo che ho tralasciato temporaneamente il paragrafo qui la parte chiamata timer questa che si può anche vedete collassare riaprire perché perché il timer è la parte diciamo così tra virgolette il cervello l'intelligenza di questo programma sta nel timer dove c'è una certa sintassi che ci permette di impostare il comportamento del programma a vari livelli anche qui premendo il pulsantino con l'icona i di informazioni si apre una pagina internet con tutti i dettagli di questa sintassi che in inglese però non è difficile è tutto in inglese i comandi come vedete ma facile start stop if after dopo eccetera eccetera questo timer appunto permette di registrare per esempio ad una determinata ora o per quanto tempo registrare eccetera eccetera una tras qui c'è un errore di battitura ecco trasmissione e questo è solo il minimo di quello che si può fare oppure il classico utilizzo poniamo il caso che voi vogliate registrare da una radio web una trasmissione che sapete essere trasmessa da una certa ora una certa ora voi potete impostare il vostro timer di questo applicativo di far partire la registrazione at quindi start at una certa ora e poi la riga dopo potete mettere stop after un'ora e mezzo di funzionamento oppure potete anche mettere stop at l'ora di fine della trasmissione quando davanti a un comando c'è questo cancelletto o dash come lo chiamano in inglese è sotto commento quindi non è attivo quindi vedete nel mio caso ho diversi comandi che sono sotto commento quindi come se non esistessero per il programma l'unico comando che attivo in questo momento è stop after 30 seconds ovvero ferma la registrazione dopo 30 secondi così era una prova che avevo fatto ho fatto partire la mia registrazione lui esattamente al trentesimo secondo si ferma da solo per esempio solo un esempio tanto delle combinazioni potete combinare questi comandi un po come volete e qui c'è tutto spiegato comunque in questa pagina basta che cliccate la i come ho fatto io riesce questa pagina e potete scorrere tranquillamente questa pagina se non è comprensibile in inglese sapete che google translator da sempre una mano la potete dare in pasto a google translator e vi aiuta comunque ripeto la sintassi a me sembra molto molto semplice fra le altre cose potete anche dire fermati quando il file che stai creando supera che ne so 100 megabyte proprio per evitare che vengano creati file abnormi se la registrazione non si ferma allora potete dirgli guarda crea un file che arrivi che ne so a 200 megabyte poi fermati comunque ecco eccetera eccetera tutte queste combinazioni in più interessante oltre all'intervallo di registrazione oltre alla quantità di tempo di registrazione oltre alla dimensione di file di registrazione c'è una caratteristica che trovo particolarmente interessante che è quella sempre in ambito timer quindi qua dentro quello che ho già definito il cervello dell'applicativo potete gestire voi si possono impostare anche delle soglie audio quindi in decibel per iniziare a registrare o per mettere in rispettivamente mettere in pausa ecco qui è come diciamo come quei microfoni quei registratori particolari che che vi permettono appunto questa questa cosa cioè voi accendete il registratore lo mettete vicino alla fonte audio che vi aspettate di avere e restano fermi in stand by finché non vengono sollecitati da un certo rumore un certo livello di decibel di rumore allora si attiva registra poi dopo qualche secondo che questa fonte audio per esempio si zittisce nuovamente il microfono il registratore si rimette in stand by quindi registra solo al momento che è necessario che c'è il rumore richiesto o il suono o la musica richiesta ecco e questo è possibile semplicemente mettendo per esempio start if voice per esempio ovvero parti se c'è della voce se c'è del suono del rumore e rispettivamente pause pause if silence ovvero mettiti in pausa se c'è silenzio ecco questi due comandi così per difetto sono già impostati da sistema con certe caratteristiche che potete modificare leggendo qua nella guida non sto a darvi tutti i dettagli ma potete modificare le caratteristiche di decibel delle soglie naturalmente del rumore per far partire mettere in pausa il registratore fatto sta che già così senza far nulla con questi si attivaste questi due comandi potreste avere il vostro registratore che parte dopo sopra una certa soglia di suono si mette in pausa sotto una certa soglia di suono si rimette si riattiva sopra una certa soglia di questo suono eccetera eccetera ecco per attivare o disattivare i comandi come vi ho detto si mette il cancelletto davanti per disattivarlo rispettivamente lo si toglie per attivarlo quindi mettiamo che io voglio attivare questo comando ho cancellato il cancelletto scusate il gioco di parole e poi per confermarlo si fa salva rispettivamente se voglio disabilitarlo un'altra volta rimetto il mio cancelletto con spazio senza basta che ci sia un cancelletto in prima posizione della riga dei comandi e si fa salva di nuovo adesso di nuovo attivo solamente stop after 30 seconds per far rendere attivi per far interpretare questi comandi in questa finestra che possono essere da uno a molti molti comandi non uno solo alla volta possono essere diverse combinazioni attiva assieme devo comunque attivare il timer qua se non attivo questo vistino questa opzione tutto quello che c'è qui con cancelletto o meno cioè senza cancelletto non viene comunque interpretato perché il timer è spento voi dovete attivare la funzionalità del timer in modo che questi comandi prendano vita ecco comunque guardatevi con calma questa pagina di aiuto perché ripeto qui è proprio la potenza di questo applicativo sta proprio qua nelle combinazioni di uno o più di questi comandi e tutto si gioca tutto qua dentro con una sintassi semplice ripeto in inglese ma semplice ed è molto potente ottenete molto con questo combinando questi comandi del timer per semplicità qui in questo video non stiamo tanto a giocare con queste combinazioni perché sono non voglio dire infinite ma sono parecchi quindi inutile che stia farvi vedere di far partire registrazione fra un minuto o due per allungare il video per niente comunque lascio attiva l'opzione fermati dopo 30 secondi attivo il timer in questo momento se inizio a registrare dopo 30 secondi smette comunque giusto per dimostrazione io attivo una canzone che è la famosa free software song e poi faccio partire la registrazione vedrete che dopo 30 secondi si fermerà da solo giusto per mostrarvi che questo comando con il timer attivo è attivo non ha il cancelletto davanti e quindi verrà interpretato dal programma registratore audio quindi facciamo partire la canzone facciamo partire la registrazione speriamo che non ci sia troppo casino di audio che sto registrando anche il video contemporaneamente qui vedete i secondi qui vedete i decibel siamo a 20 secondi eh tra poco smette da solo voilà avete visto che dopo 30 secondi esatti il programma si è fermato da solo quindi questo comando è stato interpretato correttamente non mi sono accorto prima di aver messo mp2 invece di mp3 come formato ma poco male per la nostra prova avete visto che lui ha creato ha rinfrescato diciamo il nome del file ha aggiornato ha messo la data di oggi 24.3 alle 20.44 l'ha salvato nella cartella qua in questa stessa cartella deve aver salvato questo nome di file andiamo a cercarlo eccolo qua vediamo se si sente qualcosa perché appunto sto registrando contemporaneamente il mio audio per il video eccetera eccetera vediamo un po' cosa è successo proviamo a sentire eh insomma qualche problemino c'è stato all'inizio questo però vedete che la traccia è lunga 30 secondi ecco e ha registrato ciò che le casse audio ci hanno fatto sentire poco fa ehm l'importante è anche sapere che ha registrato proprio il flusso audio non è che ha registrato il suono uscito dalle casse che abbiamo sentito noi ma proprio registrato il suono dalla scheda audio prima che esca dalle casse ecco quindi non è una replica di quanto le casse ci ritornano ma è proprio il flusso audio che viene dalla dalla scheda audio ecco quindi il mio consiglio è se siete interessati a un programma di questo tipo ripeto per registrare programmi radio web per registrare qualsiasi cosa per registrare voi stessi la vostra voce da un microfono per qualsiasi cosa prendetevi il vostro tempo soprattutto per studiare questa opzione la parte timer perché è il cervello dell'applicativo è lì che sta la potenza dell'applicativo il resto sono tutte opzioni semplici se vogliamo banali eh si imposta il formato ma poi il tutto si gioca qua dentro soprattutto la finezza di poter registrare qua sopra una certa soglia fermarlo sotto una certa soglia di decibel questo trovo particolarmente interessante come si installa questo programma non fa parte almeno finora non ha mai fatto parte dei repository ufficiali di ubuntu non in ubuntu magari in altre distribuzioni sì non lo so per installarlo quindi facciamo capo a un archivio ppa che si trova a questo indirizzo adesso qui il solito trittico di comandi classico che vi presento da un po' di video a questa parte per aggiungere i repository fate copia e incolla di questo comando che io vi lascio ovviamente come sempre nella descrizione di questo video copia e incolla esegui password di amministratore bla 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 per aggiungere i repository poi copia e incolla di questo comando per aggiornare il sistema che riconosca questo archivio ppa e infine installiamo il programma audio recorder che è poi questo ecco qua quindi qui possiamo chiuderlo possiamo se esco esce del tutto se no mostra la finestra nascondi la finestra eccetera eccetera questo è il programma registratore audio che è decisamente più potente più raffinato di quello come dire standard non presente in in ubuntu in tutte le distribuzioni basate su gnome che non so se si chiama registratore penso che l'ho usato forse una volta in vita mia perché è anche molto limitato nelle nelle sue funzionalità vediamo un po' se riesco a trovarlo registratore ecco registratore registratore di suoni si chiama questo è quello standard in dotazione nelle nelle distribuzioni basate su gnome eccolo qua vedete che potete dare un ingresso quindi una una sorgente di suono che si chiama master e non so bene cosa voglia dire già qui si capisce poco mentre qui è molto più chiaro potete distinguere benissimo le varie sorgenti audio mentre la sorgente master non si capisce se sia quella per difetto attiva o meno la qualità quindi più o meno i formati di registrazione sono simili eccoli qua vedete abbiamo la stessa disponibilità ma veramente ciò che è scarso in questo registratore di suoni standard chiamiamolo così per difetto di ubuntu e quindi delle distribuzioni in nome è proprio le impostazioni quindi la sorgente e poi non ha il timer soprattutto va e dovete spegnerlo voi o attivarlo voi insomma dovete essere presenti quindi è molto limitato per questo dico chi è interessato chi ha necessità di registrare audio in modo anche automatico senza la propria presenza magari anche di notte ecco quindi spegnendo ovviamente l'audio delle casse ma lasciando attivo questo programma può registrare con questo bel programma semplice ma potente nello stesso tempo allo stesso tempo ecco voilà con questo è tutto io ho detto tutto vediamo un po' se la scaletta è finita ecco quindi vi saluto e vi attendo al prossimo video ciao ciao